salve care benvenute nel mio nuovo interattivo è un interattivo brevissimo che è del seguente chi è lui cosa prova cosa vuole dirmi vi ho indicato le carte a secondo della domanda perché queste sono le carte della personalità che ho fatto io queste sono gli angeli del cuore queste sono le carte gialle di zaira che sono le cuginette delle carte verdi dove ci saranno delle indicazioni quindi qualcosa che vuole dirvi allora io parto subito perché è un interattivo molto breve e quindi vado subito a chiedere chi è lui vediamo quale caratteristiche a questa persona da queste carte possono venire fuori sia le caratteristiche fisiche che di personalità allora chi è lui è una persona seria ha un buon carattere è generoso è buono a fondo mazzo abbiamo a tratti da narcisista ecco qua quindi comunque questa persona anche pur essendo che ha queste insomma buone caratteristiche però ha anche tratti da narcisista quindi qua sicuramente non è questo significa che è un narcisista ma che comunque ha dei comportamenti un po similari a quelli che può avere un narcisista ok quindi probabilmente è una persona che non si fa sentire per un po di tempo che quando si si arrabbia magari vi blocca oppure che ne so potrebbe anche non dimostrare ciò che prova insomma i tratti da narcisista sono potrebbe essere una persona anche un po manipolatrice una persona che non esprime i suoi sentimenti allora adesso proprio sui sentimenti andiamo a vedere quindi cosa prova questa persona per voi andiamo a vedere cosa prova allora qui viene la carta prima di tutto ama te stesso andiamo un'altra carta pensa con ottimismo alla tua vita amorosa fai attenzione alle bandiere rosse alchimia perdona e impara a fondo mazzo abbiamo molto presto allora che cosa prova questa persona per voi sicuramente qua c'è una forte attrazione quindi un'alchimia una forte attrazione probabilmente alchemica fra voi due però vedete questa persona centrale viene fai attenzione alle bandiere rosse quindi qua ci saranno dei segnali che ti mettono in guardia quindi voi andate un attimino a vedere quali sono questi segnali è perché qua mi viene da pensare che voi forse dovete un attimino come dire pensare un più a voi stessi se questa persona tratti da narcisista mi viene da pensare che comunque potrebbe anche avere dei comportamenti dove poi voi magari vi siete proposte oppure non so lui vi ha bloccato e voi magari l'avete chiamato oppure lui vi lascia e voi lo cercate insomma un qualcosa che questa persona attua perché appunto ha questi tratti un po così da narcisista e quindi qua le carte vi dicono intanto riprendi il rispetto di di sé che questo ti rende più romantici e più attraenti vi rende poi dovete pensare con ottimismo alla vostra vita amorosa quindi avere più fiducia vi porterà l'amore e questo ovviamente sono dei dei consigli per voi però ragazze e ragazzi su cosa prova lui per voi qua mi viene da pensare che c'è soltanto un'alchimia una forte attrazione magnetica quindi qua c'è qualcosa che voi dovete perdonare a questa persona che probabilmente non si comporta molto bene con voi e qua c'è anche una decisione che dovete prendere molto presto quindi dovete decidere molto presto cosa volete che insomma accada e quindi dovete decidere in maniera lucida e proprio farlo accadere nel momento in cui voi avete insomma siete lucidi nel prendere una decisione quindi qua come sentimenti quello che prova mi viene da pensare che prova soltanto una forte attrazione chimica e che anzi non si comporta granché bene e forse voi vi siete sottomessa un po' di più tant'è che vi danno l'indicazione di avere più amore per voi stessi va bene e poi anche che dovete perdonare evidentemente qualcosa vediamo queste sono le carte che ci dicono cosa vuole dirmi vediamo cosa vuole dirmi desidero fare l'amore con te vedete questa carta è molto sincronica con quella dell'archimia quindi questa persona desidera fare l'amore con voi vediamo ancora non voglio più soffrire nella mia vita probabilmente questa persona ha dei traumi del passato non do a vedere il mio interesse per te quindi questa è una persona piena di problematiche ho sempre ragione anche il fatto dei tratti da narcisista e possono essere appunto l'avere sempre ragione cioè essere sempre un po' come dire insomma orgoglioso no una persona che comunque è piena di sé ecco anche ego riferita e la carta finale voglio ritornare da te quindi ragazze chi è questa persona è una persona seria un buon carattere generoso però vedete è attratti da narcisista cosa prova per voi prova attrazione probabilmente ve ne ha fatte pure insomma qualcosa vi ha fatto perché qua c'è la carta che appunto vi dice fate attenzione che questa persona non ve la racconta giusta tant'è che dovete perdonare e tant'è che forse vi siete un po' diciamo sottomesse ai suoi comportamenti però comunque vi dà l'ottimismo di pensare con ottimismo alla vostra vita amorosa quindi pensare positivo vi porterà sicuramente l'amore non so se con lui o diciamo fuori da lui quindi in ogni caso c'è una decisione che dovete prendere molto presto riguardo a questa situazione di cui state chiedendo ovviamente sul cosa vuole dirmi vi vuole dire che desidera fare l'amore con te quindi convalida l'alchimia però non vuole più soffrire nella sua vita quindi questa è una carta che ci indica che questa persona probabilmente ha delle problematiche sue interiori e quindi non da vedere l'interesse che ha per voi perché comunque questo è anche un comportamento tipico dei narcisisti probabilmente questa persona a tratti da narcisista perché nella sua vita avrà avuto delle problematiche dice ho sempre ragione e insomma fate attenzione perché questo vuole ritornare da voi quindi se c'è stato come sembrerebbe da questa carta fai attenzione alle bandiere rosse avrà fatto qualcosa di male e qua la carta dice perdona impara quindi è come se vi da il consiglio di perdonare per poter risanare diciamo il passato questa persona torna da voi quindi poi insomma ovviamente sapete voi quale decisione prendere in finale questo era il mini interattivo io spero che vi sia piaciuto vi aspetto tutti nei commenti vi mando un abbraccio forte dalla vostra zaira ciao a tutti